Amici 22, Angelina si commuove dopo avere un video del papà Pino, clip. Angelina Mango è la figlia di Pino, il cantautore scomparso preamaturamente nel 2014. Martedì 20 dicembre, l'allieva di Amici di Maria ha visto un video relativo un'ospitata di suo padre nel talent show nel 2006. In sala prove con Lorella Cuccarini, Angelina si è commossa ed è scoppiata in lacrime. Poi, ha parlato del rapporto speciale che aveva con il suo papà, video. Nel date time di martedì 20 dicembre, i telespettatori di Amici di Maria hanno assistito ad un momento emozionante. Lorella Cuccarini ha chiamato in sala prove Angelina e le ha mostrato un video riguardante un'ospitata di suo padre Pino che risale al 2006. La ragazza si è commossa ed è scoppiata in lacrime. Poi, Angelina ha raccontato del legame speciale che aveva con il suo papà, mio padre per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita. A tal proposito, la 21enne ha spiegato che il cantautore si dedicò alla famiglia e alla musica. Angelina ha spiegato alla sua insegnante che il papà fin da bambino comprese di essere portato per il mondo musicale. Tanto da portare avanti nel tempo questo suo dono. L'attuale allieva del talent show di Maria De Filippi ha confidato che anche lei vuole portare avanti il dono ricevuto da suo padre Pino. Infine, la ragazza ha raccontato che suo padre a livello umano era una persona di una gentilezza incredibile, la cosa più importante che mi ha dato. La 21enne ha riferito che non c'è cosa più bella nel saper ascoltare il prossimo e chiedere scusa quando si commette un errore. Il racconto di Angelina riguardante il papà Pino non è passato inosservato ai fan del programma. Su Twitter, un utente ha ammesso di essersi emozionato, verissimo, Mango era una persona meravigliosa. Angelina è sulla buona strada e si vede ampiamente. Un altro utente ha elogiato l'allieva per le qualità che hanno remostrate fino a questo momento. Un altro telespettatore di Amici di Maria ha affermato, questa ragazza mi piace sempre di più. Un utente invece ha ammesso di avere avuto i brividi nel rivedere il video di Pino Mango. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha criticato la scelta di mostrare il papà di Angelina. Un utente ha affermato, Lorella Cuccarini tratta Angelina in modo diverso rispetto agli altri concorrenti. Un altro fan del talent show si è domandato perché la 21enne abbia deciso di partecipare al programma se è già una professionista. A detta di un telespettatore, ricordando sempre Pino Mango, Angelina viene fatta passare per una raccomandata. Un altro utente non ha compreso il motivo del video riguardante l'ospitata del cantautore visto che risale ad un'ospitata del 2006, ma perché? Așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul, și acum rap-ul e moda on, nu? Așa-i, și zici că stom ford, la cum mă comport, în treaba asta lui-i loc de confort, ricord și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mall, de când nu știai ce-i miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari zintor. Că știi că dufă trimit ciocanul mare, înspre cer și dau și-o scarul mare.